Amici bentornati, è il momento di voi titani con le tre build migliori da usare da qui fino a The Final Shape. C'è ancora qualche mese quindi queste build vi saranno utili per fare quello che volete, come volete, appunto nei prossimi 5 mesi prima del grande DLC. Come per la strega queste sono build che vanno incontro al mio gusto personale, quindi sicuramente la scelta di armi ed esotiche può variare in base al vostro gusto. Come sempre vi chiedo di continuare a commentare qui sotto per dare anche qualche spunto a chi come voi sta cercando informazioni sul titano, per esempio per aggiornare o perfezionare qualche build da qui appunto a The Final Shape. Quindi non perdiamo tempo e iniziamo subito. Allora la prima build di cui parleremo è una di quelle build che avete sicuramente visto in giro di tutti quelli insomma che cercano magari di fare le challenge, le solo eccetera eccetera. No perché stiamo parlando del titano da strand, titano da strand che ha leggermente ricevuto qualche piccolo buff, scusate qualche piccolo nerf, non sia mai, che per noi in realtà non ha cambiato più di tanto il suo funzionamento perché comunque rimane abbastanza forte per fare praticamente qualsiasi contenuto dai GM ai raid appunto come vi dicevo dalle challenge in solo. Perché ha un'altissima sopravvivenza grazie appunto al suo banner of war e ovviamente ha anche tantissimo danno da buttare fuori appunto con il suo corpo a corpo e la super. Qui potete andare con una doppia scelta che potrebbe essere quella di utilizzare i Sintocipiti che sì sono stati leggermente modificati e leggermente nerfati ma che rimangono comunque molto forti soprattutto se pensate di utilizzare la super contro qualche boss. Diverso il discorso invece per esempio con la carezza della divinità larvale che ha ricevuto anche qui, lei un piccolo rework, Bungie deve stare sempre molto attenta a toccare questa esotica perché ogni volta che la ritocca qualcosa esce fuori ed è super buggata. Però non è questo il caso, l'esotica funziona ed funziona anche molto bene quindi la scelta delle esotiche può variare tra queste due. Imprescindibile secondo me in questa build avere uno shotgun con gancio letale che funziona esattamente come le famose build want to punch per esempio quella del cacciatore che ancora di più aumenta il danno del corpo a corpo perché è tutto lì ragazzi. Il corpo a corpo sarà quello che ci farà fare più danno di tutti. Di solito questa build va anche usata con il canone attrazione soprattutto se siete in solo. Se siete in compagnia di qualcuno probabilmente il canone attrazione potrebbe non servire però è sempre buono averlo perché sì è un debuff che comunque vi farà fare più danno ai nemici quindi perché non usarlo. Questa build è molto semplice come vi dicevo si basa praticamente tutto sul corpo a corpo quindi non dovete fare altro che usare il corpo a corpo. Come lo andremo ad utilizzare? Voi avete sicuramente tre carichi di corpo a corpo potete tranquillamente iniziare ad utilizzarlo per far partire il famoso banner of war cioè lo standard di guerra che vi permetterà appunto di aumentare la vostra sopravvivenza. Questo perché con il corpo a corpo o una spada farà sponare lo standard di guerra che pulsa di energia curando periodicamente gli alleati nelle vicinanze e aumentando i danni del corpo a corpo e delle spade. I bersagli sconfitti da te o degli alleati nelle vicinanze caricano lo standard aumentando la velocità delle pulsazioni quindi l'importante è farlo partire. Quindi la prima kill sicuramente va fatta con lo standard. Poi tutto il resto pian pianino ci arriviamo. Un'altra cosa utilissima da avere è sicuramente il rampino. Il rampino vi permette di fare tra virgolette un corpo a corpo aggiuntivo quando le vostre cariche di la mano furibonda sono finite e vi permette appunto di utilizzare il rampino per creare un ulteriore corpo a corpo quando prendete lo slancio. Questa cosa del rampino si può utilizzare anche con il navigatore e il suo catalyst che in questo momento va bene non è equipaggiato ma che vi permette poi di fare praticamente un gancio in aria per appunto utilizzare il rampino ancora e ancora e ancora. Questo per continuare appunto a utilizzare il corpo a corpo ancora e ancora e ancora per esempio si utilizza contro alcuni boss potete metterlo lì magari appunto per liberare un'intera stanza e ogni volta utilizzare quello piuttosto che il corpo a corpo normale insomma ci sono vari piccoli trick che si possono utilizzare questa è una di quelle. Quindi fondamentalmente quello che dovete fare poi quando incontrate magari un campione o un nemico o quello che è è quello di sparare un colpo di canone a trazione e switchare sullo shotgun in questo caso lo spezza spade con gancio letale ma qui potete anche mettere un peso morto insomma qualsiasi altro pompa che abbia gancio letale perché il gancio letale vi permette di aumentare i danni del corpo a corpo dopo che avete appunto colpito un nemico. La cosa buona di dello spezza spade che vi ricordo è quello che si prende all'interno del raid di grota è che ha anche schiava maledetto dopo aver sconfitto un bersaglio con un attacco corpo a corpo il che ci capiterà molto spesso i colpi di grazia con quest'arma fanno esplodere i bersagli per un breve periodo il che vi dirò non è che faccia schifo anche se poi noi le kill call con il pompa non è che ne faremo molte però meglio di niente no quindi insomma se ce l'avete ben venga. Una cosa che può andare a braccetto soprattutto in questa season con questa tipologia di build è andare a mettere anche tutto ciò che riguarda il radiante perché no comunque se utilizzate magari come primari appunto uno sventura di zaoli oppure magari l'impatto solare perché qui non avete il canone a trazione ma avete un'altra arma vi permette o anche il mini strumento galus insomma vi permette di avere radiante radiante comunque un buff che vi fa comodo avere quando fate appunto i colpi precisi che vi aumenta il danno anche del corpo a corpo quindi insomma è un buff in più è una pulizia in più perché comunque applicate bruciatura incendiano i combattenti esplodono eccetera eccetera. Quindi il funzionamento è molto diretto senza troppi fronzoli come vi dicevo appunto qui utilizzate il rampino l'altra è nella mischia che vi permette di distruggere un groviglio usare alla super fornisce maglie in tessuta ma l'intessuta è ottima da avere per avere un po' di damage resistance insieme allo standard di guerra. I frammenti che sto utilizzando sono quello della furia danneggiare i pezzali con un groviglio fornisce energia del corpo a corpo il groviglio ne creerete parecchi di grovigli quindi vi basterà prenderlo e lanciarlo per ricevere ancora di più energia del corpo a corpo la sfera di potere fornisce maglie in tessuta infliggere danni genera energia delle granate e gli effetti di sospensione sbrogliamento e recensione hanno durata maggiore. Per quanto riguarda le mod vedrete che è tutto praticamente incentrato ovviamente sul corpo a corpo che è la cosa che utilizzeremo di più. In questo caso io ho messo assorbimento solare perché sto utilizzando armi solari appunto su il secondo slot mani in alto per ricevere più energia della super ogni volta che facciamo una kill con il corpo a corpo creeremo sfere di potere con le kill di corpo a corpo le sfere di potere ci serviranno per far partire invigorimento che mi riduce il recupero del corpo a corpo ogni volta che raccogliamo una sfera di potere. In più abbiamo anche triple estensione mi riduce il recupero del corpo a corpo quando utilizzo l'abilità di classe quindi il nostro scudo assolutamente ottimo da avere. Poi resistenze insomma la build fondamentalmente è tutta qui le alternative come vi ho detto ci sono questa è sicuramente una delle build letteralmente più forti che può tirar fuori un dps enorme se sapete utilizzarla dovete stare un po' attenti ovviamente in gm perché andando con il corpo a corpo dovrete stare attenti però è una cosa che si può assolutamente usare. Poi passiamo a un'altra build molto interessante che si incentra sul solare e si incentra sulla sua super sto parlando del maglio ardente con la combinazione insieme ai guanti del pirovento. I guanti del pirovento hanno fiamme ripercussive modifica maglie ardente in un singolo colpo a danni elevati del martello che crea vari cicloni di fiamme il secondo colpo di consacrazione crea un ciclone di fiamme di questo secondo per che ne parleremo tra poco. fondamentalmente non farete altro che lanciare la super questo vi permetterà di fare un danno molto ma molto alto e soprattutto vi darà il tempo di fare dps con le vostre armi quindi è una di quelle combinazioni che vi permettono di aumentare il vostro dps per i ride maggiormente per i boss dei gm eccetera eccetera in maniera esponenziale perché non avrete più il maglio ardente normale e quindi stare lì a tirare ogni volta al tasto destro o appunto al sinistro in base alle vostre esigenze ma tirerete la super una volta sola e dopo di che avrete possibilità appunto di fare danno con le vostre armi il che è ottimo decisamente ottimo senza contare che appunto il danno è anche aumentato la seconda parte come vi dicevo è il consacrazione consacrazione potete scegliere voi se utilizzarla o meno che è praticamente il secondo corpo a corpo che vi permette appunto di avere questa scia di fuoco di fronte a voi che si applica appunto a tutti i bersagli brutta non è sicuramente questa parte di consacrazione la utilizzerei più nei contenuti un po' più tranquilli piuttosto che in contesti di ride e altro perché comunque si tratta sempre di un corpo a corpo che insomma un pochino no? è sempre un po' così da utilizzare occhio perché se andate a utilizzare fiamme ruggenti il martelletto anche se non utilizzate i sintocipidi comunque fa male quindi tenetelo a mente come una vostra prerogativa che potete andare tranquillamente un giro ad utilizzare il martelletto come possibilità per pulire per creare solo invictus quindi per creare le macchie solari eccetera 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 come granata sto utilizzando la fusione scelta vostra quale utilizzare switcherei su la curativa per esempio state facendo contenuti un po' più importanti un po' più difficili per avere una cura in più per quanto riguarda i frammenti sono con il tensione dell'eruzione il twinnesco solare ha un'area d'effetto più ampia quello dell'incandescenza che mi permette di avere energia dal corpo a corpo quando sconfiggiamo i bersagli colpiti da bruciatura quello della benevolenza e poi un grande classico che è quello dell'empirio che appunto ci permette di aumentare il nostro tempo di radiante e di ristoro il che fa decisamente sempre comodo per quanto riguarda l'artefatto stagionale ormai immagino che avrete capito quali sono le modi importanti da utilizzare quindi innesco di fiamma, scoppio rivitalizzante, raggi di precisione e pieta frocaia sono i quattro pilastri tra virgolette del solare 3.0 in questa season poi ovviamente l'ultimo slot che vi rimane sta a voi agente solitario se giocate da soli dovete fare che ne so un settore perduto o qualsiasi altra roba altrimenti io switcherei sempre comunque su ordine d'argento per aumentare i vostri danni con i lanciarazzi questa build è molto semplice ragazzi c'è ben poco da spiegare a parte appunto mettere questi per fare più danno per quanto riguarda le mod in questo momento io sono settato da ride quindi come vedete mi manca per esempio una mod di statistiche qui perché sono con il tripolo picco con dilatazione temporale e a piena carica e la destrezza appunto per fare più dps ricordatevi sempre e comunque eventualmente di avere mani in alto o qualsiasi altra mod sul casco che utilizzate per aumentare la vostra rigenerazione della super perché ovviamente tutta la bid si basa su quello quindi è importante appunto che utilizzate questo per aumentare diminuire scusate i tempi di recupero delle vostre super capitolo armi molto libero ovviamente come vedete sventura di zaoli è sempre nei miei pensieri così come l'impatto solare e il mini strumento kalus predatore del vertice altra arma fortissima soprattutto solare soprattutto se siete in fase di dps con i picchi solari e il resto ovviamente viene da sé per quanto riguarda la terza build invece andiamo a vedere qualcosa di un po' più particolare calcolate che con le prime due che vi ho fatto vedere praticamente riuscirete a fare tutto quello che volete all'interno di destiny soprattutto in questo momento con questa in questa season vi divertirete un pochino a vedere esplodere tutti i vostri cristalli in giro e ad avere tra virgolette una build carina divertente da utilizzare volendo anche nei gm se vi settate con le armi giuste ma per fare qualsiasi altra roba insomma con questa sicuramente vi divertirete soprattutto grazie alla super e a un paio di mod dell'artefatto che ci permettono di aumentare i danni dei cristalli stasi bimot con il bianchiaccio questa in realtà l'avevamo già vista quindi andiamo a vedere giusto qualche particolare questo semplicemente ci cambia la nostra barricata a una barricata di cristalli da stasi che rallenta ovviamente i bersagli nelle vicinanze ripararsi dietro questa barricata aumenta la velocità di ricarica la stabilità e la cittata delle armi per te e tu alleati che a noi non interessa quello che interessa è fare cristalli però questa è una di quelle esotiche che ci permette di fare tanti cristalli perché i cristalli sono quelli che andranno ad attivare questi due perk dell'artefatto sconfiggere un combattente congelato genera cristalli di stasi il che ci è molto utile per saluto alla tempesta frantumare i bersagli congelati e i cristalli di stasi infligge danni aumentati frantumare i cristalli di stasi rilascia scherci di ghiaccio che danneggiano e rallentano i bersagli quindi più bersagli di stasi noi creiamo scusate più cristalli di stasi noi creiamo più aumentiamo il danno e più faremo un effetto a catena che rallenterà poi anche tutti quelli vicini quindi oltre a avere la barricata che ci permette appunto di creare i cristalli i cristalli li creeremo con qualsiasi altra roba compresa la granata degli acciai appunto che crea il muro dei cristalli compreso il nostro corpo a corpo utilizzando l'urulato della tempesta quindi con il corpo a corpo caricato tra virgolette con la scivolata questo è molto importante appunto per avere più cristalli possibili in giro calcolate che i cristalli che vi conta il perk dell'artefatto vengono creati anche con le armi con lapide per esempio in questo momento io ho messo la storia dell'orrore ma qui potete mettere qualsiasi altra roba che volete utilizzare con lapide se vi va, l'impulsi, le jasluna eccetera eccetera o ovviamente anche delle esotiche come per esempio potrebbe essere la curva gelicida che come sappiamo una volta che è caricato può creare dei cristalli da stasi a nostro piacimento quindi insomma avete capito più o meno dove stiamo andando a parare il tutto si basa sui cristalli e il tutto ovviamente si basa sulla rigenerazione delle nostre abilità quindi infatti se vedete le mod sono tutte incentrate su quello soprattutto la barricata dove come vedete ho messo ripartenza dell'utilità con guadagni su guadagni e a piena carica questo ci permette appunto ogni volta che facciamo una barricata di caricarcene subito un pochino di più ovviamente assorbimento armonico quindi in questo caso da stasi se utilizzate armi da stasi se utilizzate cinetiche normali vi ricordo qui di cambiare questo con appunto l'assorbimento cinetico sulle braccia abbiamo detonazione rafforzante attacco concentrato induzione e impatto che sono tre mod che ci permettono di concatenare un pochino le nostre abilità e recuperarle un pochino più in fretta così come innervazione e isolamento ci permette di fare la stessa cosa quando raccogliamo una sfera di potere sul patto già vi ho detto appunto che c'è ripartenza dell'utilità ma c'è anche distribuzione che è un'altra mod che ci permette appunto di recuperare più in fretta le abilità quindi l'obiettivo è quello di fare cristalli ragazzi soprattutto e dico soprattutto quando siete in procinto di fare la super fatela addosso a un bersaglio importante che può essere un boss, un mini boss, un campione o quello che è perché lo vedrete letteralmente detonare per via di tutti i cristalli che riuscirete a fare e di tutta l'esplosione poi concatenate che ci saranno appunto intorno ai vostri cristalli scusate, cristalli detto ciò per quanto riguarda le armi come vi dicevo vi ho appunto parlato dei cristalli con lapide e poi ovviamente tutto il resto si basa su quello che state facendo quindi armi dei campioni picchi eccetera eccetera in questo momento io sono con il soffio e leviatano che reputo un'ottima arma se volete potete utilizzare il lamento perché no? tanto siete vicino ai cristalli per anche ricevere un pochino di resistenza ai danni quindi potete anche mettere il lamento le spade insomma quello che volete per quanto riguarda i frammenti brevemente sto utilizzando il sussurro dei frammenti quello della lacerazione perché le armi e munizioni primarie infliggono danni maggiori ai cristalli di stasi e ai bersagli congelati quindi se utilizzate le primarie e volete farli esplodere con questo li farete più danno quello della brina raccogliere un frammento di stasi fornisce una modesta protezione aggiuntiva il che non è affatto male perché i cristalli di stasi ne faremo mentre se accanto ai bersagli congelati ho un cristallo di stasi amico i danni che subisce dai bersagli sono ridotti questa appunto come vi dicevo è la resistenza ai danni che prendiamo quando siamo vicini ai cristalli di stasi che facciamo appunto a ripetizione grazie al corpo a corpo grazie alla granata e grazie alla nostra barricata mobile e alla super ovviamente quindi ragazzi queste erano le tre build che io utilizzerei e utilizzerò da qui fino alla fine della stagione dei desideri prima dell'arrivo di The Final Shape come vi dicevo all'inizio mi raccomando fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate voi se utilizzerete queste o variazioni di queste oppure build completamente diverse io spero che il video come sempre vi sia stato utile e noi ci vediamo alla prossima musica Grazie a tutti.